Ciao a tutti e benvenuti. In questo video andremo a trattare del flusso delle informazioni biologiche. Gli organismi viventi, oltre ad un flusso di energia e di materia, sono interessati anche da un flusso di informazioni. Informazioni che sono necessarie non solo per determinare la struttura degli organismi, ma soprattutto per consentire il loro corretto funzionamento. L'insieme delle informazioni possedute da un individuo costituisce il suo patrimonio genetico, o genoma, che si tramanda di generazione in generazione. Su questo patrimonio genetico influiscono anche numerosi fattori ambientali, come è testimoniato, per esempio, dal fatto che gemelli monozigoti, aventi quindi lo stesso patrimonio genetico, possiedono delle caratteristiche differenti. Ma come sono fatte queste informazioni e come vengono utilizzate? Della necessità delle informazioni si era reso conto nel 1928 il medico inglese Frederick Griffith. Egli, lavorando alla realizzazione di un vaccino contro la poliomelite provocata dall'opneomococco, si accorse che di questo batterio ne esistevano due diversi tipi. Un ceppo detto R, incapace di provocare la polmonite, e un altro detto S, che invece era virulento, ossia in grado di provocare la malattia. L'unica differenza tra i due tipi è la presenza o meno di una capsula che li circonda completamente. I batteri S, dato che S sta per smooth, caratteristica conferita dalla capsula, ne sono quindi provvisti, mentre gli R, rugosi, no. Al di là di questa differenza, i due tipi di batteri sono indistinguibili. Dopo aver constatato che gli pneumococchi S determinavano nei topi la morte per polmonite, mentre gli R li lasciavano vivi, Griffith provò a iniettare nei topi dei batteri S uccisi con il calore, riscontrando che, come era ovvio, gli animali rimanevano vivi. Quando egli inoculò sia batteri R vivi che batteri S uccisi al calore, si aspettava che, in base ai risultati precedenti, i topi sarebbero rimasti vivi. Invece questi si ammalarono di polmonite e morirono. Inoltre, dai loro cadaveri si potevano recuperare dei batteri S vivi. Per spiegare questo risultato, Griffith ipotizzò che, per avere la capsula, sono necessarie delle relative informazioni e i batteri S possiedono la capsula dato che hanno queste informazioni, mentre i batteri R non hanno la capsula perché ne sono privi. In qualche modo, quindi, gli R sarebbero riusciti a prendere delle informazioni dai batteri S uccisi e avrebbero anch'essi costruito la capsula trasformandosi in batteri S. Con i suoi esperimenti, Griffith dimostrò quindi che sono necessarie delle adeguate informazioni per possedere determinate strutture e chiamò fattore trasformante la sostanza in cui queste informazioni erano presumibilmente codificate. In conclusione, possiamo dire che le informazioni interessano sia la morfologia che la fisiologia degli organismi. In altre parole, le informazioni permettono agli organismi di acquisire la loro particolare struttura o morfologia e consentono loro di svolgere le diverse funzioni. Fisiologia. Ma quale poteva essere la natura di queste informazioni? Nel 1943, il microbiologo americano Oswald Avery, insieme ad altri due ricercatori, ipotizzò che il fattore trasformante di Griffith doveva identificarsi o con il DNA o con RNA o con proteine. Tra le biomolecole, le uniche a possedere una certa variabilità erano soltanto queste tre. Per identificare però quale di queste tre molecole fosse veramente implicata, i ricercatori ripeterono gli esperimenti di Griffith, ma con una variante. Una volta uccisi i batteri S con il calore, il liquido che li conteneva venne filtrato, omogenizzato e suddiviso in tre provette. In una provetta aggiunsero un enzima capace di distruggere il DNA, la DNAsi. In un'altra provetta aggiunsero un enzima capace di distruggere l'RNA, l'RNAsi. Mentre nella terza provetta aggiunsero la proteasi, un enzima che distrugge le proteine. In ogni provetta misero poi dei batteri R vivi e provarono a vedere cosa sarebbe accaduto una volta iniettato il contenuto nei topi. E nei casi in cui non era stato iniettato il contenuto di DNA, non si ebbe la trasformazione degli R in S. Ciò dimostrò che è proprio il DNA a contenere le informazioni. Tuttavia, l'identificazione del DNA come molecola capace di portare informazioni suscitò non poche perplessità. Anzi, molti scienziati si rifiutarono di accettare questa idea, preferendo credere che fossero invece le proteine ad esercitare questa funzione. Secondo Costoro, infatti, il DNA non sarebbe stato sufficientemente complesso, potendo contare soltanto sulla variazione di poche molecole, cioè le quattro basi azotate. Esso avrebbe potuto fornire una quantità di informazioni assai più limitata di una proteina, che invece può contare su ben 20 amminoacidi diversi. Occorsero quindi altri esperimenti prima che tutti accettassero definitivamente la dimostrazione di Avery. Un momento importante è stato quando tra il 1935 e il 1940 fu chiarita la struttura dei virus. Si trattava infatti di organismi capaci di duplicarsi all'interno delle cellule, costituiti da un involucro proteico contenente un acido nucleico. Quindi, se i virus sono in grado di riprodursi, possiedono ovviamente le informazioni necessarie per la loro costruzione. Ma queste informazioni stanno nell'involucro proteico o nell'acido nucleico? Nel 1952, Alfred Hershey e Martha Chase, utilizzando dei virus che infettano i batteri, cioè batteriofagi o più semplicemente fagi, fornirono la prova più convincente che le informazioni risiedessero nel DNA. Dato che, per riprodursi le informazioni dei virus devono necessariamente penetrare all'interno della cellula, basta individuare quale parte di esso entra, se l'involucro proteico o il DNA in esso contenuto. Per stabilire qual è il materiale genetico, i due ricercatori riuscirono a produrre alcuni fagi le cui proteine erano marcate con zolfo radioattivo, mentre altri il cui DNA era marcato con fosforo radioattivo. Lasciarono poi che i virus infettassero i batteri, per andare a vedere successivamente quale dei due tipi producesse la radioattività all'interno delle cellule. Si scoprì che soltanto i virus con il DNA radioattivo rendevano a loro volta radioattivi i batteri, segno che per la loro riproduzione era necessario il DNA e non le proteine. Quindi è il DNA a possedere le informazioni. Dopo aver individuato il DNA come materiale genetico, ovvero la sede delle informazioni, il passaggio successivo fu quello di scoprire come queste informazioni vengono trasmesse da una cellula all'altra e da un organismo all'altro. Si delinea così quello che oggi viene comunemente chiamato il flusso di informazioni. La continuità della vita è infatti garantita dalla riproduzione, ma questo comporta la necessità di duplicare e trasferire le informazioni codificate nel DNA. DNA. Ogni nuova cellula che si forma deve quindi ricevere una copia completa del DNA e ciò si realizza attraverso quello che viene chiamato il ciclo cellulare. Ma di questo e molto altro tratteremo all'interno dei prossimi video. Per questo ti consiglio di iscriverti al canale se non vuoi perderteli e di lasciarci un like o un commento per farci sapere se questo video ti è stato d'aiuto. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e a presto!